Ciao, sono Lodovica e vi voglio raccontare una storia. Da oltre mille anni, i nomadi dei Monti Altai vivono in un rapporto speciale con le aquile reali. L'addestramento delle aquile è un'arte segreta tramandata di padre in figlio. Ma ora, per la prima volta, una giovane ragazza sogna di diventare un'esperta addestratrice di aquile. Ecco Asholpan. Ha 13 anni. È forte. È coraggiosa. Ha un talento naturale. E la sua avventura è solo all'inizio. E la sua avventura è solo all'inizio. La principessa e l'aquila Nei migliori cinema